Ci troviamo in strada dei Pioppi, non lontano dal casello autostradale di Pesaro. Queste ampie aree verdi rappresenterebbero una sorta di piano B alla realizzazione delle biodigestore nella provincia di Pesaro Urbino, sorta di piano B proposta dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci in consiglio comunale. Si tratta di un'area di 85 metri quadrati che è già stata oggetto di ricognizione da parte degli uffici urbanistica e ambiente del comune. Un sito alternativo nel caso non andasse a buon fine la proposta di Talacchio nel comune di Vallefoglia. Talacchio che resta però attualmente la zona in netto vantaggio nelle ipotesi. La zona individuata in strada dei Pioppi è infatti nata dalla necessità del comune di proporre un suo sito alternativo, ma è una scelta che ad oggi si scontra con parecchi ostacoli. Innanzitutto il terreno indicato da Ricci è di proprietà privata. Appartiene a Vittorio Livi, titolare dell'industria Fiam, che a mezzo stampa ha già indicato come l'area non sia in vendita né sia pensata per una destinazione d'uso come quella della realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti. Un'area su cui lo stesso Livi ha anticipato di avere progetti di sviluppo specifici per la sua azienda. In secondo luogo la stessa ipotesi è stata oggetto di scontro nel consiglio comunale tenutosi ieri lunedì 30 novembre. Nell'assise infatti c'è stato un punto di convergenza comune sulla necessità della realizzazione del digestore e dei suoi benefici nella gestione del ciclo dei rifiuti provinciali. Allo stesso tempo c'è stato uno scontro fra la maggioranza che ha portato al voto e all'approvazione un ordine del giorno che impegna ad individuare un sito alternativo dove ospitare l'impianto in una logica di percorso partecipato a livello provinciale con Fano, Vallefoglia e Urbino. La minoranza in consiglio comunale ha però ritenuto in idoneo il sito qui in zona Torraccia per una serie di problematiche a cominciare dalla vicinanza col fiume Foglia che ha circa 200 metri e appunto è al rischio medio di esondazione che presenterebbe questa collocazione.